Musica Morizio, cosa avete sequestrato ieri? Durante l'operazione di contrasto all'obusivismo commerciale, gli ufficiali per posti a servizio hanno sequestrato circa 50 borse con marchio contraffatto e circa 10 giubbotti di marchie varie anch'essi contraffatti. Una modalità di intervento non facile, spiegava prima. Una modalità di intervento attenta, perché la disposizione era quella di stare attenti a se stessi e in particolar modo che durante l'intervento repressivo non si facesse amare la persona che era nelle vicinanze proprio dove stavamo operando. Che cosa succederà ora a questa merce? Sicuramente se risulterà da perizia tecnica contraffatta, l'autorità giudiziaria ordinerà la distruzione. I cittadini si lamentano sia della presenza dei commercianti che degli abusivi che fastidiscono i parcheggi. Che cosa devono fare? Guardi che non tutti i cittadini si lamentano dei venditori abusivi, anzi intervengono a favore dei venditori abusivi quando interveniamo noi a reprimere.